Allora ragazzi questa sera abbiamo un grande appuntamento allo 0831 di Brindisi, una grandissima serata ovviamente di musica latina, salsa, baciata, reggaeton, io intanto mi preparo per andare appunto a questa grandissima serata, ci vediamo tra poco, andiamo! Sì, 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 quindi che devo un vato, vato! Sì, 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 che devo un vato, vato! siamo appena tornati dalla grandissima serata allo 0831 di brindisi è stata veramente una serata eccezionale tanta gente tanta bella musica devo ringraziare chiaramente il mio amico enzo straniero perché quando organizza lui le serate c'è da mettere la mano sul fuoco sono sempre bellissime serate con tanta gente era brindisi però diciamo che hanno partecipato a parte tutti brindisini anche tanta gente di lecce e provincia di taranto e provincia e anche di bari e provincia è stata una grandissima serata sono le vediamo l'orologio le 4 e 25 mentre sto registrando questo video e niente concludo dicendo buonanotte a tutti ci ritroveremo in un altro appuntamento in un'altra serata continuate a seguirmi iscrivetevi al mio canale se non lo avete ancora fatto visitate anche il mio sito www.daleplay.it e dal flaco è tutto per il momento bye bye hasta l'ora ciao 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 ciao